Parte il campionato di Serie D, al Dei Marsi l'Avezzano ospita la neopromossa Forza Impronese per alzare la voce sin da subito in un girone che si preannuncia infuocato. Mister Ferrazzoli deve fare a meno di Costa Ferrera per un problema al polpaccio, mentre gli ospiti in avanti si affidano a Germinale. Inizia le panchina per il nuovo arrivato Casolla, dirige Marco Ferrara di Roma 2. Avezzano timido in avvio, il Fossombrone va ad un passo dal vantaggio all'undicesimo, corner calciato da Bucchi, B.O. salta più in alto di tutti e sfiora il palo. Ancora i marchigiani al quarto d'ora, errore in uscita dei biancoverdi, Capitano Pagliari si accentra ma spara alto. Squillo Marsicano al ventesimo, si accende sulla destra a Bolò, crossa al centro per Forte che non riesce ad indirizzare. Prima dell'intervallo punizione dal limite per l'Avezzano, va a Bolò con il mancino, la barrera devia favorendo l'intervento di Marco Antonini. Nella ripresa non cambia il canovaccio della gara, per un'occasione degna di nota bisogna attendere il diciassettesimo, quando Brusca è superlativo nel disinnescare una conclusione ben indirizzata da Bucchi. Risponde subito l'Avezzano, sugli sviluppi di un calcio di punizione Roberti apparecchia per Verna che calcia male. Alla mezz'ora D'Alessandris sblocca la sfida. Azione personale del numero 11 che si invola verso la porta e con estrema freddezza batte Marco Antonini. Subito dopo Goliaci prova da lontanissimo, senza successo, ma al trentacinquesimo arriva il passiccio difensivo dei Biancoverdi che regalano la palla al nè entrato Casolla. Il numero 19 non perdona e fa una 1. Il finale si gioca in 11 contro 10 per l'espulsione di Biot dopo un parapiglio a centrocampo. L'Avezzano allora ci crede, Golia però manda alto da buona posizione. Durante il primo degli otto minuti di recupero, il signor Ferrara concede il penalti all'Avezzano per un tocco di mano. Roberti si incarica della battuta ma la traversa rispude indietro il pallone. Nei minuti finali forse in dell'Avezzano ma non basta, al De Marsi termina 1-1. Diciamo che è stata una partita equilibrata fino al gol, dove il primo tempo noi all'inizio meglio, loro fine primo tempo, inizio secondo tempo meglio loro. Dopo credo che fatto il gol la partita era finita perché la Fossombronese non aveva più grandi energie. Purtroppo abbiamo fatto due errori gravi noi nell'appoggiare la palla indietro di Cattane nel rigore di Fabrizio Roberti. Secondo me la partita sta qui. Abbiamo buttato via due punti ma assolutamente non coprevolizzare i due ragazzi che hanno avuto la sfortuna di incappare in questi errori. Noi siamo consapevoli che abbiamo buttato due punti e che bisogna avere un pochino più di cattiveria e bisogna migliorare sotto questo punto di vista. Nel secondo tempo, l'ho detto, all'inizio del secondo tempo loro meglio, però grandi parate, Brusca non è fatta, ci sono stati mischi. Diciamo che ci eravamo un pochino allungati per cercare di pressarli alti e in mezzo al campo si era fatto un po' un buco, dove Marzullo e Verna hanno avuto delle difficoltà. Dopo con i cambi abbiamo ripreso le distanze giuste e ripeto, la partita sta tutta lì, nei due errori dopo il gol, che purtroppo pregiudicano la vittoria, ma ripeto, cercheremo di andare a riprendere questi due punti da qualche altra parte, sapendo che tutte le partite sono difficili perché questa nostra l'avevano definita una partita facile, invece come si è rivelato facile non era. No, no, il campo è bello, soltanto in alcune zone, ma non ha influito nei momenti topici della gara. Io credo che quando si sbaglia bisogna essere responsabile e consapevole che si è fatto un errore, però non bisogna neanche stare qui a parlarne tanto, è normale che siamo un pochino arrabbiati tutti, penso più degli altri, Roberti e Cattaneo, ma da martedì si ricomincia a preparare la partita di Montrotondo. D'Alessandris, raccontaci il gol. No, è stato bravo Fabrizio, diciamo, ha fatto tutto lui sul gol, ha rubato una palla dal difensore, poi mi ha fatto anche spazio e ho visto un buco e ho cercato di andare il più forte possibile, poi arrivare subito davanti al portiere, poi a volte si segna, a volte no, ma ci è andata bene, e stavolta, insomma, diciamo che ci ha premiato fino a dieci minuti dopo, la fortuna, però niente, ripeto, come ho detto già prima, non è da lì che ripartiamo, ma è semplicemente una consapevolezza che ci porteremo avanti già da domenica prossima, non sottovaluteremo nessuno come abbiamo sempre fatto e cercheremo, come ha detto anche il mister, di riprendere questi due punti mancati da un'altra parte. Avete una grande squadra, ti senti pronto anche ad essere determinante dalla panchina come oggi? Ma diciamo che lo siamo tutti, noi che giochiamo cinque, dieci, venti, trenta minuti in un tempo, novanta minuti non fa differenza, l'importante è l'apporto che si dà alla squadra e l'impegno che ci si mette, poi a volte va bene, a volte un po' meno, però non è un problema, l'importante è che ci sia l'impegno, sempre al massimo, fare il più gol possibile, dare una mano alla squadra il più possibile, poi vedremo come andrà. Una squadra complicata sicuro, l'ho visto oggi, è chiaro che per noi è tutto nuovo, quindi come dico sempre è tutto nuovo e alla domenica al di là delle informazioni che possiamo avere, poi il riscontro ce l'abbiamo sul campo, di conseguenza sapevamo che l'Avezzano era una squadra attrezzata per fare un campionato importante, l'ha dimostrato in campo, però noi ecco, dobbiamo giocare così, con un pochino anche delle volte di spregiudicatezza, anche mentalmente liberi, perché? Perché comunque non possiamo pensare di solo pensare a difenderci, anzi oggi quindi mi è piaciuto molto il fatto che in alcune situazioni siamo andati anche ad attaccarli forte nella loro metà campo e questo ci dà sicuramente una gran autostima, ripeto, poi alla fine magari dove dovevamo congelare la partita invece siamo andati a concedere qualcosa che è una squadra forte che non si può concedere e abbiamo rischiato di capitolare, però ribadisco, se credo me il risultato è più che meritato. Qual è l'obiettivo del Fossombrone? Insomma se gioca così si può togliere tante soddisfazioni? Fossombrone si deve salvare, punto, e sarà difficilissimo, quindi non mi faccio nessun tipo di illusioni, oggi abbiamo visto il campionato quello che sarà, i mezzi nostri sono questi, di conseguenza tenere questi ritmi e questa corsa per 34 partite sarà veramente dura, però se noi non facciamo così faremo fatica, di conseguenza i piedi sono no saldi, più che saldi, è chiaro che è un punto di partenza, però il nostro obiettivo è più che chiaro ed è quello di provare a salvarci. Possiamo dire che la sconfitta sarebbe stata troppo inmeritata? Dal mio punto di vista sì, è chiaro che a pochi minuti dalla fine si poteva anche capitolare per quello che era successo, però per come è venuto soprattutto il primo gol dove c'è stato un nostro errore, ammetto che anche il nostro gol è venuto forse da una leggerezza degli avversari, però poi anche il discorso del rigore, l'espulsione ingenua del mio giocatore, un po' anche forse affrettata, gli otto minuti di recupero, cioè sono tante cose, e finire così in sofferenza ci deve solo che fortificare, è chiaro che la testa ce l'abbiamo già proiettata domenica prossima, però oggi andiamo a casa, ci facciamo queste tre ore e mezza di pulmino con un sorriso in bocca.